Bianco o blu Abbiamo messa in campo, tatticamente messa bene Primo tempo abbiamo fatto fatica Soprattutto nel trovare le distanze, le misure Ci siamo mosse male Poi secondo tempo invece abbiamo, secondo me Trovate le giuste misure alla squadra Ci siamo mosse meglio, abbiamo creato occasione Chiaro, non è che con la Torra puoi pensare di avere meglio occasioni Siamo riuscite a sbloccare la partita E credo, per quello che abbiamo fatto il secondo tempo Anche meritatamente Poi è chiaro che siamo stati un po' ingenue Perché fai gol al quarantunesimo Mancano sei minuti, sette minuti alla fine E prendere gol praticamente a tempo scaduto Brucia un po' e siamo stati un po' ingenue E da quel punto di vista dobbiamo crescere Perché magari in quel caso forse occorreva muoversi in modo diverso Però fa parte del gioco, fa parte del gioco anche questo aspetto Ora sulla vostra strada due trasferte impegnative in Romagna Con Riviera e San Zaccaria Prima del big match col Verona qua al Club Azzurri Come la vedi in vista di questi tre impegni fondamentali sulla via dello Scudetto? Ma la vedo come la vedevo prima La vedo che ogni partita è impegnativa, è complicata Noi lo sapevamo che abbiamo queste due o tre settimane difficili Adesso prima di pensare al Verona che la vedo talmente lontano E' bene pensare al Riviera di Romagna Che è la squadra che nel giro di andata Come l'ho affrontata io è quella che mi aveva maggiormente sorpreso Da punto di vista del gioco Quindi intanto pensiamo al Riviera di Romagna Cerchiamo di analizzare gli errori fatti oggi E ce ne andiamo a giocare Ma non cambia niente rispetto alla mia percezione Cioè ogni partita è dura Una gara ben giocata dalla Torres Riuscite a mettere in difficoltà il Brescia E poi è arrivato un gol a tempo scaduto Che ha regalato un punto preziosissimo Sì, una partita giocata bene dalle mie ragazze Giocata con voglia, con determinazione Queste sono partite che le ragazze forse sentono di più Però sono le più pericolose anche per noi Non avendo una squadra attrezzata come quella del Brescia Però diciamo che anche noi in campo abbiamo dimostrato di essere squadra Dove può arrivare allora adesso questa Torres? Se non sbaglio nel 2015 non è ancora arrivata nemmeno una sconfitta E la lotta con Firenze e Mozzanica Sta iniziando a diventare interessante per il terzo posto Ma dove può arrivare? Non lo so Noi ci giochiamo partita dopo partita Con la stessa voglia, con la stessa determinazione Con la stessa cattiveria tra virgolette sportiva Questo è poi Le somme le tireremo a fine stagione A fine campionata, l'ultima partita con Como L'importante è continuare così con questa determinazione E poi i risultati arrivano Far vedere che anche noi siamo squadra Anche se si è cambiato tanto quest'anno Non è la Torres degli anni che vinceva Però è sempre la Torres che in campo può dire la sua Giulia allora un gol a tempo scaduto sul campo delle campionesse d'Italia Una soddisfazione doppia questa per te? Ma sì sicuramente Penso che il secondo tempo siamo state un po' troppo rinunciatarie Però forse la sconfitta sarebbe stata eccessiva Abbiamo trovato il gol È andata bene Siamo contenti Una gara come dicevamo anche col mister Ben giocata dalla Torres Siete riusciti a mettere in difficoltà il Brescia È arrivato il gol del Brescia quasi a tempo scaluto E poi siete state bravissime a reagire Sì sicuramente siamo state brave a non buttarci giù E a cercare di Nonostante il minutaggio Insomma fosse quasi allo scadere A crederci ecco sì Una situazione davvero paradossale per il Brescia Vi siete trovate in contropiede al 49esimo Contro tre difensori del Brescia Siete stati bravi a crederci fino alla fine? Sì c'è stato anche un batti e ribatti abbastanza fortunoso Però siamo state brave Eravamo in quattro dentro l'aria E' sintomo che ci credevamo e volevamo il pareggio Stefania un gol Una zampata arrivata quasi a tempo scaduto Hai voglia di raccontarci un po' come si è sviluppato questo gol? Sì c'è stato questo lancio E Cristiana è stata molto brava A appoggiarmela praticamente davanti alla porta E io non ho dovuto fare altro che appoggiarla in rete Purtroppo abbiamo preso questo gol all'ultimo secondo Che ci ha fatto male Comunque da queste cose si impara Si impara ad andare avanti E ci ha fatto capire che la prossima volta Dovremmo essere più brave a gestire il risultato Ne parlavamo anche con Milena Una parità molto confusa Una parità difficile Siete riuscite appunto a trovare il gol del vantaggio Cos'è mancato per difendere l'1-0 nei minuti finali? Sì eravamo un po' confuse Non ci siamo mosse come il solito Molto probabilmente c'era un po' di stanchezza Un po' di frenesia anche Quindi non siamo riuscite a gestire bene la partita Comunque non si può sempre giocare bene Eravamo riuscite a far gol E niente dopo hanno pareggiato purtroppo E' andata così Sei riduce anche dall'esperienza con la nazionale Hai voglia di raccontarci appunto la tua avventura Dei giorni scorsi Sì è stato un bellissimo torneo Siamo arrivate quarte Quindi penso che sia un risultato positivo Per me è stata una bella esperienza Ho fatto le mie prime partite Mi sono divertita Questa esperienza secondo me Mi è servita molto E spero di poterne fare altre Ora testa solo al Brescia però Per questo finale di stagione Sì sì assolutamente Adesso dobbiamo rientrare qua con la testa E fare il possibile per la nostra squadra Mi è servita molto più Mi è servita molto più Grazie a tutti.